Perché si tradisce? Ci sono diversi fattori. Il primo fattore è un desiderio sessuale per l'altra persona. Poi ci può essere un forte coinvolgimento mentale e un'attrazione forte verso una persona che noi percepiamo carismatica. Il tradimento non è evasione sessuale, o meglio, non sempre lo è. È un concetto più complesso. A volte ricerchiamo un maggiore senso di intimità che forse l'altra persona che abbiamo accanto non riesce a darci. A volte è solo quella forte intimità, senza arrivare al rapporto sessuale. Quindi, vediamo che il tradimento ha tantissime sfaccettature. Si può stare con una persona, essere innamorati di un'altra, essere innamorati della persona con cui stiamo, essere innamorati di diversi aspetti che le persone ci danno, che entrambi ci danno. Il tradimento è lo specchio dei nostri desideri. È lo specchio anche della voglia di sentirci speciali, di ricevere attenzioni, di ritrovare parti che sono state abbandonate, sepolte. E per te, che cos'è il tradimento?